A Marsala la polizia di Stato arresta due pregiudicati per tentato omicidio. Sequestrati oltre 88 mila euro a vito in grassetto a Mazzara. Incendi in Sicilia, paure sulle madonie a Enna. Disaggi sulla A29. Si indaga sulla morte di Francesco Pantaleo, il marsalese trovato carbonizzato a Pisa. Buon inizio settimana e ben ritrovati con l'informazione di Teleotto sul canale 190 del Digitale Terrestre. A Marsala la polizia di Stato arresta due pregiudicati per tentato omicidio. Nel fine settimana la polizia di Stato ha eseguito due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di TG e TV per il delitto di tentato omicidio commesso ai danni di un cittadino rumeno. Gli arresti effettuati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala giungono a conclusione di una intensa attività di indagine che avviata nell'immediatezza dei fatti ha consentito di individuare i due autori dell'efferato delitto. I fatti risalgono alla sera del 24 maggio scorso quando in Piazza Marconi il cittadino rumeno aveva un banale diverbio con TV il quale ha chiamato in propria difesa il fratello TG. All'arrivo di quest'ultimo gli animi si sono surriscaldati e dopo qualche spintone TG ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello sferrando un fendente al petto del rumeno. La vittima si è allontanata con non poche difficoltà mentre l'aggressore ha continuato a minacciarlo di morte. All'atto dell'arrivo in ospedale il rumeno versava in gravissime condizioni. Frattanto sul posto era giunta la volante che ha notato la presenza dei due uomini protagonisti dell'aggressione noti agli agenti per gli svariati pregiudizi di polizia. I poliziotti hanno riscontrato che uno dei due presentava evidenti macchie di sangue sul busto. I due fratelli così si sono dati alla fuga ma sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni dove peraltro si è proceduto al sequestro degli indumenti vistosamente macchiati di sangue. Alla luce del chiaro quadro indiziario il GIP presso il Tribunale di Marsala ha emesso per entrambi gli indagati ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere anche alla luce dei plurimi pregiudizi di polizia gravanti su entrambi la proclività al crimine e la gravità dei fatti che hanno esposto la vittima ad un grave rischio per la vita. Dopo gli adempimenti di rito i due sono stati tradotti presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Ed ancora la polizia ferroviaria di Trapani durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale ha sorpreso un viaggiatore 22enne originario di Partinico evaso dagli arresti domiciliari. Nella fattispecie l'uomo munito di braccialetto elettronico si era recato alla stazione di Partinico con l'intento di prendere il primo treno utile per raggiungere Trapani ma si è imbattuto nei controlli degli operatori della Polfer ai quali ha riferito di aver avuto un permesso dall'autorità giudiziaria. Ma dagli accertamenti più approfonditi gli agenti hanno appreso che lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione arbitrariamente. I poliziotti così su disposizione del pubblico ministero hanno condotto il partinicese presso il proprio domicilio. E sono state sequestrate oltre 88 mila euro a Vito Ingrassetto detto Pucci. Ascoltiamo. I carabinieri di Mazzara del Vallo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Marsala per 88 mila 200 euro riconducibili a Vito Ingrassetto, 47 anni, conosciuto come Vito Pucci di Mazzara del Vallo. Ingrassetto è stato già condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e ora indagato per trasferimento fraudolento di valori con una coppia di coniugi. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala che hanno portato alla misura cautelare reale hanno fatto emergere come l'indagato più volte segnalato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti avesse fraudolentemente trasferito la proprietà di determinate somme di denaro a soggetti terzi, due coniugi di 38 e 34 anni, al fine di evitare l'aggressione da parte dello Stato ed eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Le indagini hanno avuto inizio nel mese di febbraio di quest'anno quando i militari della stazione di Mazzara del Vallo hanno trovato circa 20 chili di fuochi d'artificio conservati all'interno di un garage nel pieno centro del quartiere di Mazzara 2 e la somma di 40.000 euro suddivisa in banconote da 50 euro e imballati con nastro adesivo, nascosti nel vano di una stufa a gas all'interno di locali in uso ai due coniugi che sono stati denunciati. Pochi giorni dopo, su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Trapani, il 38enne già destinatario di un provvedimento definitivo che stava espiando con la pena alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto in carcere. Intercettazioni telefoniche e ambientali, insieme ad accertamenti patrimoniali, hanno permesso di confermare le attività di ingrassetto che con la complicità dei due coniugi nascondeva la somma di 88.200 euro poi trovata in più tranche dai carabinieri, sempre suddivisa in banconote da 50 euro attribuendola alla coppia. Le indagini hanno consentito quindi di segnalare alla locale autorità giudiziaria anche i due coniugi vicini ad ingrassetto, custodi formali delle somme sequestrate, in quanto coinvolti in concorso continuato nel reato di trasferimento fraudolento di valori e di sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca l'importante somma di denaro rinvenuta. Ed è di Francesco Pantaleo, purtroppo il corpo carbonizzato trovato a Pisa, ricordate la settimana scorsa gli diversi appelli del padre che nulla sapeva dopo la scomparsa del figlio che era andato a studiare in Toscana. Il ritrovamento in questo fine settimana adesso si sta indagando, regge anche l'ipotesi dell'omicidio. Ascoltiamo. La pista dell'omicidio con il passare delle ore prende piede nelle indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, il 23enne studente universitario marsalese scomparso a Pisa sabato 24 luglio e il cui corpo è stato trovato carbonizzato. Sul luogo della tragedia non sono state trovate né una tanica di benzina né un accendino fiammiferi. Ecco perché si suppone che il giovane non sia morto suicida, impossibile infatti togliersi la vita, in questo modo riuscendo anche a nascondere gli strumenti per darsi fuoco. Va però precisato che i carabinieri di Pisa continuano a non scartare alcune ipotesi, anche perché le fiamme hanno ridotto in cenere tutto in un'area di 4 o 5 metri attorno al cadavere. Intanto gli investigatori stanno esaminando anche le immagini registrate da decine di telecamere, di videosorveglianza pubbliche e private nella zona, che potrebbero dare una svolta alle indagini. Ci si concentra sui 5 chilometri che separano casa sua e il luogo in cui è stato trovato il cadavere. Si cerca di capire cosa abbia fatto o se abbia incontrato qualcuno. Bisogna capire anche come mai lui, che era miope, si sia allontanato da casa, lasciando in camera gli occhiali da vista e tutti gli effetti personali, tra cui portafoglio e smartphone. E da Marsala ha sfiorato l'ennesimo dramma della solitudine. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della compagnia di Marsala, unitamente vigili del fuoco, hanno tratto in salvo un 66enne inglese, residente da tempo in contrada stagnola, che da tre giorni, a causa di una caduta, si trovava riverso per terra senza possibilità di riazzarsi. L'intervento è scattato grazie alla segnalazione da parte di una parente dell'uomo che da due giorni non aveva notizie e non riusciva a mettersi in contatto con lui. Con l'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati nell'appartamento dove l'uomo vive da solo, trovando finestre e luci accese. Nei pressi della camera da letto era riverso sul pavimento l'uomo, cosciente ma dolorante. Soccorso immediatamente con l'intervento del personale sanitario, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino per le cure del caso e successivamente affidata a un'amica che gli darà le cure. E continua in quest'estate rovente a bruciare la Sicilia. Paura sulle madonie a Enna, ma anche gravi disagi sulla A29. Ascoltiamo. Gli incendi continuano a distruggere ettari di macchia mediterranea in tutta la Sicilia, da Trapani a Catania, da Palermo a Ragusa. Anche ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle azioni di spegnimento di roghi che ormai da giorni divampano ovunque e a breve arriveranno gli aiuti dalle altre regioni, come promesso dal capo Dipartimento della Protezione Civile. Fabrizio Curcio ha però anche bacchettato la Sicilia. Non entro nelle polemiche, soprattutto quando c'è da lavorare e risolvere un problema, ha detto. È evidente che la responsabilità della macchina di contrasto agli incendi boschivi è chiaramente regionale e ogni regione si organizza in base alla propria disponibilità di risorse organizzative. E a seguito della richiesta avanzata dalla regione siciliana, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM con la dichiarazione dello Stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile. Il Dipartimento di Protezione Civile si legge in una nota e dunque al lavoro per coordinare l'invio di volontari delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali che opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi. Sono 33 le squadre di volontari di protezione civile provenienti dal nord Italia che daranno una mano per contrastare l'eccezionale ondata di incendi in Sicilia. Il loro arrivo è previsto per oggi e viaggiano sui mezzi dotati di sistemi di spegnimento. Il riconoscimento dello Stato di mobilitazione determina un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato. Le squadre di volontari che si stanno già preparando provengono da Emilia, Friuli, Veneto, Trento, Bolzano, Piemonte e Lombardia. Si tratta di personale esperto in antincendio. Nell'ambito del volontariato di protezione civile, spiega il capo regionale Salvo Cocina, queste collaborazioni extra-regionali avvengono in maniera bilaterale e con ottimi risultati operativi. Contestualmente il nostro Dipartimento sta organizzando la distribuzione sul territorio regionale delle squadre e la logistica cercando alberghi idonei per ospitare i volontari nelle zone di Catania, Palermo ed Enna. Roghi anche nel Trapanese a causa di un incendio nell'area sovrastante, la Galleria Segesta, ieri è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, prima nella carreggiata direzione Alcamo-Trapani, poi, riaperto questo, è toccata alla carreggiata opposta direzione Palermo con uscita obbligatoria allo svincolo di Segesta. E due bagnanti rischiano di annegare trascinati dalle forti correnti. A salvarli un cinquantenne. Sarebbe potuta finire in tragedia una normale mattinata di mare a Marsala. Due bagnanti che avevano deciso di approfittare della domenica di riposo hanno rischiato di annegare in acqua a causa delle correnti che si sono abbattute su spiaggia e scondito. Il movimento delle onde avrebbe reso alquanto difficoltoso il ritorno a riva dei due. Fortunatamente la situazione di pericolo sarebbe stata notata da un cittadino di mezza età presente in spiaggia che si sarebbe gettato tra le onde per trarre in salvo le due persone a rischio. Sul posto, poco dopo, si sarebbero presentati anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ai protagonisti della vicenda. Fortunatamente le loro condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione. E cambiamo decisamente argomento. È stato pubblicato dal governo Musumeci il decreto che dispone il fermo di pesca temporaneo, misura obbligatoria per il 2021. Si tratta di un fermo biologico, spiega l'assessore regionale alla pesca Tony Scilla, che cerca di aderire quanto più possibile al periodo emergenziale che le marinerie siciliane stanno attraversando a causa della pandemia che consente alle imprese di pescare e scegliendo il periodo di arresto in relazione all'andamento del mercato. Le novità salienti riguardano l'ampia forchetta temporale in cui le unità di pesca, abilitata allo strascio, potranno fermarsi per 30 giorni consecutivi, da oggi materialmente fino al 31 dicembre. E a proposito dell'assessore alla pesca e agricoltura, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Dipartimento Agricoltura, il Comune di Marsala e il Consorzio di Bonifica. Erano presenti i vertici del Consorzio Sicilia, il Direttore del Dipartimento Agricoltura di Ario Cattabellotta e l'assessore regionale. Ascoltiamo lo stralcio. Concretamente firmeremo questo accordo e firmeremo questo accordo avendo chiari quali sono i compiti di ognuno degli attori in campo. Il Comune lavorerà per produrre il progetto tecnico con il supporto assolutamente professionale e competente del Consorzio di Bonifica che sta facendo un lavoro davvero egregio in condizioni non facili rispetto alle risorse finanziarie, rispetto alla gestione del personale, rispetto alla quantità stessa, rispetto ai bisogni appunto, e con la regia di Dario, del Dipartimento Agricoltura, che diciamo così metterà in rete tutti questi ragionamenti. Perché noi dobbiamo produrre che cosa? Fantasia? No. Dobbiamo produrre fatti che già abbiamo prodotto. Perché noi non siamo qui a dire quello che faremo senza aver prodotto nulla di concreto. Questo è un governo che lavora, che produce, e devo dire che nell'occasione saluto l'ingegnere Sardo che di fatto è riferimento a Trabba del Consorzio di Bonifica a fare il numero uno, che tra l'altro conoscete, Marsalese gioca in casa, a cui voglio davvero fare un ringraziamento pubblico perché è riuscito a definire un progetto già finanziato grazie all'azione politica del mio governo e del mio assessorato di ben 6 milioni e 200 mila euro per finanziare l'ammodernamento, l'aggiustamento della rete, il rivo della tica Rubino. Comprendete che parliamo di un fatto straordinario perché significa assicurare quasi l'80% del bacino degli agricoltori, sicuramente marsalese, rispetto al territorio di Trabba, di Marsala, a Paceco, in Arrivare, a Salemi e sono, ripeto, quasi 6 milioni e 200 mila euro decretati, decretati, no? Faremo, decretati. Dobbiamo anzi, mi auguro che si possa fare, caro Antonio e caro Gigi e caro Fabio, subito l'assegnazione dei lavori. E sempre a Marsala, alcune settimane fa, un'importante iniziativa ambientale nel porto PFU Zero promossa dall'Associazione Marevivo in collaborazione con Ecotaire, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica che ha visto il sostegno istituzionale del Comune di Marsala e della Guardia Costiera. I rispettivi rappresentanti, il Sindaco Massimo Grille e la Comandante Carla Picardi, venerdì scorso hanno voluto consegnare un riconoscimento ai sub che hanno consentito il recupero di 2.500 kg di pneumatici fuori uso abbandonati in mare. E si è conclusa anche per quest'anno la terza edizione di Red Head Sicily, ospite a sorpresa il rosso Don Angelo di Pasquale. Si è conclusa con l'allestimento di Pompieropoli, il villaggio ludico dell'Associazione Vigili del Fuoco in Pensione, la terza edizione di Red Head Sicily, il Festival delle persone con i capelli rossi, quest'anno organizzato a Marsala con il patrocinio del Comune e dell'assessorato regionale al turismo. Due giorni, sabato e ieri, durante i quali si sono ritrovate 50 persone dai capelli rossi naturali, per condividere l'orgoglio dei rossi. Sabato sera, presso il complesso monumentale San Pietro, si sono sfidati sul palco 5 partecipanti alla corrida, presentata da Fabrizio Bracconeri e Ninni Bornice. Ospite a sorpresa anche Don Angelo di Pasquale, parroco a Palermo, rosso di capelli e di barba. Ho saputo del raduno dei social, ha detto Don Angelo, e ho voluto essere presente compatibilmente con i miei impegni pastorali. Al Red Head Sicily è arrivato anche l'olandese Hollar, unico cittadino d'oltre Alpi, a partecipare al Festival in Sicilia. Hollar, assiduo frequentatore dei raduni dei rossi in Olanda, ha saputo dell'iniziativa in Sicilia e ha deciso di venire a Marsala insieme ai suoi genitori. È un'iniziativa originalissima, ha detto Etienne Hollar, occasione di handcoming turistico, ma anche d'affermazione dell'orgoglio rosso. Ieri pomeriggio la parata finale accompagnata dal gruppo folk I Burgisi di Marsala, lungo via Scipione l'Africano, Porta Garibaldi e sino in Piazza della Repubblica. Spostiamoci adesso a Mazzara del Vallo, dove da oggi, 2 agosto fino al 4 agosto, dalle ore 9 alle ore 17, nel ponte sul fiume Arena sarà sospesa temporaneamente la circolazione al transito di tutte le categorie di utenti per consentire l'esecuzione di ispezioni di indagini strutturali da parte del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. A prevederlo, la stessa ordinanza, la numero 8 dell'ente, che ha anche disposto quale percorso alternativo garantire ed è lo stesso che materialmente già previsto e che prevede di percorrere la strada statale 115, la SP85, la SB4. È sempre in ammiglio di trasporti, è sempre a Mazzara del Vallo, l'autoservizi siberiana, gestore del servizio di trasporto pubblico, rende noto che da lunedì oggi, quindi da oggi, lunedì 2 agosto, per una migliore gestione, per il rispetto degli orari di fermate, la corsa delle 8.45, con partenza dalla Rotonda per Tonnarella, verrà sospesa. In alternativa, per chi volesse recarsi a Tonnarella alle ore 9, da lunedì al sabato, può usufruire del servizio urbano, con partenza alle ore 9 da Piazza Matteotti. Nulla invece cambia per quanto riguarda gli altri orari e fermate. Ed è stato un weekend ricco di eventi, dopo il successo di Mogolle di giovedì, il canto del Marrobio è tornato in scena con Roberto Lipari, il suo Non ce n'è comico, noi lo abbiamo ascoltato. Sì, anche per riabilitare un po' l'immagine di Palermo, quindi diciamo che non c'è il Covid, c'è un po' fatto un danno, anche dal punto di vista mediatico, e allora ho detto, vediamo un po' di recuperare l'immagine, e allora dal 2020 portato a questo spettacolo, l'hanno inquennato questo tormentone, e con un gioco di parole, in realtà penso l'opposto, penso che in tutto c'è del comico, anche nel periodo terribile che stiamo vivendo. Roberto, per voi cosa significa comunque poter riaffrontare il palco, poter dialogare con il vostro pubblico? Siete stati davvero fra le categorie più danneggiate sotto questo punto di vista? Sì, ma io non neanche utilizzerei il passato prossimo, nel senso che siamo tra le categorie più danneggiate, perché anche se ci fanno ripartire, e poi a un certo punto aggiungono una regola che dimezza il pubblico, quindi diciamo che c'è molta, non c'è tanto rispetto verso il mondo dello spettacolo, che poi in realtà durante il lockdown è stato quello che ha salvato psicologicamente gran parte del mondo, perché si stava sulle piattaforme a vedere i film, o si vedevano gli spettacoli, quindi è un po' strano, è un po' strano come ci si ama quando ci serve, e poi non ci si applica, non ci si aiuta, quando invece in quel momento non è fondamentale. Io sono felicissimo di tornare sul palco, perché ho pensato come tutti che non potevano intornarci più, e quindi ogni sera me la godo al massimo, perché ancora di più adesso so quanto è bella, ma mi sono fortunato a fare questo mistero. Sarà la risata a salvare il mondo? La risata è la differenza tra l'uomo e l'animale, gli animali non hanno sviluppato l'ironia, e invece l'uomo si ha perso forza brutta e ha sviluppato l'ironia, e quindi la risposta più grande alla violenza è la più grande alta forma di intelligenza che è la risata, quindi assolutamente solo la risata con sapore e buono. Sempre in materia di eventi, cresce l'attesa per A29 Rock de Casba, che si terrà il 5 e 6 agosto a Mazzara del Ballo, con una serie di spettacoli musicali in centro storico e che culminerà con il concerto di Max Gazet nella centralissima Piazza della Repubblica. Mercoledì 4 agosto alle ore 10.30 nella terrazza Alambra, adiacente all'Infopoint turistico di Piazza Mocarta, alle spalle dell'Arco Normanno, si terrà la conferenza stampa nel corso della quale il sindaco, l'assessore, il main sponsor e gli organizzatori ovviamente presenteranno quello che è il programma della manifestazione. Sarà presente anche l'ingegnere Baldo Ballatore, responsabile del piano Safety Security, dove ovviamente verranno specificate quelle che sono le modalità per partecipare agli eventi. E chiudiamo con lo sport. Inizia oggi la preparazione atletica del nuovo Mazzara Calcio. Giocatori vecchi e nuovi si sono ritrovati in mattinata agli ordini di Mister Marina e del suo staff a Palermo presso la splendida struttura dell'Odel Casena dei Colli, sponsor di Maglia e sede di tutti i ritiri del Mazzara che verranno effettuati alla vigilia delle partite in trasferta nel Palermitano. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG. Io vi lascio con la programmazione di Telehot e vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.